Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di nazionale, breve parentesi in questa giornata di campionato e lo faccio chiaramente perché? Perché ieri ci sono state le convocazioni per quanto riguarda le amichevoli contro l'Inghilterra e contro l'Argentina. Due amichevoli di lusso ma che in realtà servono solo di preparazione a loro e non a noi che, come sapete, mondiali non li vedremo neanche un binocolo e li vedremo su Mediaset. Mediaset che tra l'altro ha comprato il pacchetto all'interno dei mondiali senza l'Italia, quindi pensate che affarone che hanno fatto. Ah, parentesi ancora chiusa. Parliamo di questa comunicazione del nuovo CT, o meglio, del CT provvisorio di viaggio, CT 321, che prende provvisoriamente il compito di traghettare la squadra fino a più o meno in estate, quando in teoria dovrebbe essere scelto un CT che porti avanti la squadra fino agli europei 2020, cavolo, sono già al 2020 quasi. Vabbè, ed è lì quello. È un allenatore che secondo me non può essere all'altezza di prendere il compito della CT 321 nazionale e quindi viene usato come traghettatore appunto perché è l'unico disponibile già all'interno del sistema calcio italiano. Allora, di là di quello che è di viaggio, sono d'accordo sul fatto di utilizzare lui perché c'è ben ancora poco chiarezza per quanto riguarda la FGC e quindi anche per l'allenatore il progetto da iniziare. Il progetto che è fallito, quello che è vecchio, è il progetto che dovrebbe iniziare con molti nuovi, si spera. Parliamo di questo, parliamo di convocazioni, di quelli che sono secondo me il filo logico che lega questi nomi con quello che è la scelta del CT attuale e anche il fatto che sono amichevoli, probanti e importanti, bla bla bla, però sono amichevoli. Per noi restano tali, per loro restano preparazioni, per noi restano solo numeri che si aggiungono alle presenze dei giocatori presenti. Parliamo dei portieri, Buffondo, Larumma, Perin, poi commenteremo, Bonucci, Chiellini, D'Armiande, Sciglio, Ferrari, Florenzi, Rugani, Spinazzola, Zappacosti sono i giocatori difensivi. Buonaventura, Cristante, Gallardini, Giorginio, Parolo, Pellegrini, Verrati, quelli di centrocampo, Belotti, Candreva, Chiesa, Cutroni, Immobile, Insigni e Verdi, quelli offensivi. Cosa di questo qua? C'è tanta cosa già vista, tanta roba già vista, però, onestamente, chi avreste convocato sul posto? Il problema vero e proprio sta alla base, come dico spesso, cioè il fatto che l'Italia, come sistema calcio italiano, non abbia mai avuto modo di creare una base solida di giovani importanti. E i giovani importanti che esistono sono questi. Tanti invocano Balotelli, ok, ma Balotelli cosa può dare molto di più rispetto a quelli nominati prima? Perché Balotelli dovrebbe essere questo crack? Balotelli è un giocatore, secondo me, adesso in forma, che meriterebbe perché sta facendo molto bene a Nizza, perché effettivamente forse ha messo la testa a posto e su lui sta cambiando la vera opinione. Però è anche vero, cosa cambia? In due amichevoli Balotelli in più, cosa potrebbe dare? Puglioni più, ma se il resto della squadra è quella che è, cosa puoi dare? Ecco che, in effetti, c'è ben poca materia prima da quale attingere per quanto riguarda le convocazioni. Però è anche vero che in queste non sono scelte di un allenatore coraggioso, non perché non sia coraggioso di Biagio, ma perché semplicemente sa che lui deve solo portare avanti formalmente una squadra, che poi sarà dato in mano a qualcuno che porterà avanti un progetto perlomeno biennale, quello dell'europeo. Quindi, pertanto, non si scompone, prende ciò che di buono c'era dalle ultime partite nazionali e lo porta avanti con qualche ritocchino dovuto anche al momento che stanno passando certi giocatori e certe novità, che poi vedremo. Perché Buffon? Perché Buffon per dargli il contentino, un regalo per salutare Buffon nel migliore dei modi, a prescindere del sconfitto o meno, ma non con l'eliminazione mondiale. Io mi auro che Buffon a fine stagione molli, lasci, salvo Champions League, come sapete, ma non per Buffon, ma perché è giusto concludere al massimo con quella che potrebbe essere una vittoria di uno dei tre trofei a disposizione, senza rimpianti, senza svalutare la sua immagine. E sarebbe stato giusto anche farlo per la nazionale, ma anche giusto evidentemente. Cioè non cambia niente, ci diciamo, questo contentino di giocare un paio, due o tre partite ancora, di superare i suoi record e così via. Quindi per i numeri, non per altro. In effetti Buffon copre Donnarumma e Perin, che Donnarumma, ultimamente sta passando i migliori momenti, qualche papera di troppo, i primi mesi della stagione con qualche problema contrattuale, qualche problema con la sua tifoseria del Milan, quindi adesso si parla di Donnarumma che dovrebbe approdare in altra squadra, con Reina, futuro portiere del Milan, insomma ragazzi. Donnarumma forse attualmente non è che dia garanzie, quindi è giusto Buffon, alla fine l'alternativa quale sarebbe. Perina piace molto, e non ho mai capito perché nessuno abbia puntato delle squadre top della classifica a Perin, si è ancora al Genoa, cioè ha 26 anni quest'anno, ed è ancora al Genoa. Portiere che è molto più valido di Reina, prima di tutto, quindi è molto più giovane tra l'altro, ha 10 anni in differenza, molto più valido e molto più giovane, e Napoli si trova ancora con un portiere che non sanno quale sia, e Perina ancora va al Genoa, contando che il Genoa non credo che voglia i biliardi per un portiere del genere, contando che il Genoa, come vede un po' di milioni, dice subito di sì. Difesa, io contendo per Chiellini che deve continuare, Chiellini sta bene, Chiellini è un giocatore che sta bene, ma soprattutto le idee di parole fisiche che sicuramente ne avrà ancora, è il difensore italiano più forte al momento. Su questo nessun dubbio, Barzagli è calato da qualche anno, Bonucci non sta vivendo un buon momento, o sta un po' riprendendo ma comunque, eh? Ma Chiellini è devastante, Chiellini siccome è l'Europeo ci arriva, se ci qualifichiamo è chiaro. Bonucci ovviamente è bene così, perché si sta riprendendo il capitano del Milan, non poteva essere altrimenti. Rugani bene, che un mese fa non gli avrei dato neanche mezza convocazione, adesso li abbiamo tutte perché sta giocando molto bene. Bene che Barzagli sia tolto dalla Nazionale perché ci ha già ripensato una volta, è giusto che dedichi gli ultimi mesi, o anche l'altro anno, alla Juventus per intero, ormai 37 anni quest'anno, che riposo un pochino. La Nazionale ha dato tanto veramente molto, è giusto che dia quello che gli resta alla Juventus. Gli esterni a me pierson tutti, i terzini mi pierson un po' tutti. Darmian deve un po' rivalutarsi dopo brutte qualificazioni mondiali, però non è colpa solo sua. De Sciglio sta andando bene, quindi De Sciglio è capitano grandissimo. Florenzi molto contento, Florenzi che si è ripreso dopo gli infortuni, due mi pare anche al ginocchio molto gravi. Florenzi giocatori che ho sempre adorato, e quindi ben venga. Spinezzola, Zappacosta, giocatori terzini giovani, è giusto convocarli, poi Spinezzola è anche in orbita di Juve, prossimo anno sarà dei nostri. Centrocampo, buona avventura, sono contento, buona avventura, è un giocatore che mi sembra piaciuto da Milan, e tra i più sottovalutati secondo me. Cristante, molto bene, che sta facendo molto bene con l'Atalanta, dopo che si era un po' perso andando all'estero dopo il Milan, anzi, credo che il Milan aveva sbagliato a perdere Cristante, è un giocatore buon giocatore. Gagliardini è quell'unico ai giovani che si lega dal passato recente, e quindi andava convocato, anche se non mi piace tantissimo. Giorgini ovviamente è giusto che ci sia, è un buon regista, e forse tra questi è l'unico regista d'occhio che può giocare durante le difese in un generale 3, con una destra, insomma, le terretive ci sono abbastanza. Parolo, un giocatore che si sacrifica molto, non è un fenomeno, non mi piace particolarmente, perché lo trovo macchinoso e non tecnicamente fenomenale, però è un giocatore che onora la maglia, ecco, quindi i giocatori che onora la maglia sono tanti in questa nazionale, perché abbiamo pochi talenti, talenti, è giusto che giochi, no? Pellegrini piace molto, della Roma giovane, quindi giusto che sia così, Verratti è l'eterno incompiuto, secondo me, io avevo una grande stima per Verratti, ce l'ho ancora in parte, però è anche vero che se ha 26 anni, come ne ha Verratti quest'anno, non mi dà ancora l'idea di aver fatto quel stato di qualità completo del grande centriampista europeo, secondo me lui ha fatto l'errore di andare al PSG per i soldi, quello che è, senza fare lo step intermedio di una squadra sempre big, ma una squadra più operaia, come la Juventus, forse sì, per quanto sia big, forse anche più del PSG, ma il PSG ha un po' quella puzza sotto il naso della squadra piena di soldi, ma che poi alla fine, come palmaresse, a livello europeo, poca roba, avete idea di... spero che avete capito del senso. Belotti, tanti hanno detto appunto sul Balotelli, non credo che faccia differenza chiamare Balotelli per Belotti, perché Belotti non sta giocando benissimo, alla fine cosa cambia? Belotti è un giocatore che va valutato bene, perché è il futuro dell'attacco, secondo me, ed è più forte degli altri qui presenti, forse tranne uno che sta emergendo, poi vedremo chi. Candreva è il filo del passato che si lega, a me non piace Candreva particolarmente, è un po' il parolo dell'esterno, cioè i giocatori si criticano che sono legati a un passato non felicissimo, ma che onorano la maglia, ecco, quella è una cosa importante, evidentemente un po' si lega a questo, anche per il discorso del gruppo. Chiesa, benissimo, giovane interessante. Cutrone, ecco, Cutrone è forse l'attaccante più interessante, che ricorda molti Pippi Inzaghi, perché ha il Milan, perché fa i gol e fa anche importanti e pesanti, Cutrone è un bel giocatore, secondo me è quell'attaccante, adesso vediamo come andranno le cose, ma che potrebbe essere quello che Balotelli non è stato, non perché sia per forza di Balotelli o forte con Balotelli, ma perché a Balotelli gli è mancata sempre una cosa la testa, a 28 anni Balotelli sta un po' recuperando, però un po' troppo tardi, diciamo. Cutrone invece è un ragazzo molto serio, ho letto anche delle cose su lui, della famiglia, del padre, che è orgoglioso, però Cutrone potrebbe essere veramente del futuro, più forte di Immobile, ad esempio che ho convocato, ma Immobile merita, merita veramente questa nazionale, a me non piace particolarmente Immobile, non è questione di forte o non forte, un tipo di giocatore che non mi piace molto, però Immobile è il cuore della Lazio in attacco, quindi giusto così. Insigne è Verdi, quindi contento per Insigne, che viene, vabbè, confermato Insigne è giusto così, e Verdi, che è un giocatore che ultimamente bazziccava quella, e quindi chiaramente qualche nome nuovo magari è giusto provarli in queste occasioni, prima di dare in mano al City nuovo, chissà chi sarà una squadra perlomeno un po' rodata. Detto questo, sono concuazioni che possono mettere molti dubbi, perché c'è molto dello scorso anno, però in effetti, cioè, cosa cambiereste? Quali sono i nomi importanti da mettere in più di questi? Cioè, veramente, quali sono? Non ce ne sono, e purtroppo questo è, questo rimane, sono anche tanti i nomi, quindi, ragazzi, questo abbiamo, la cosa che interessa a me è che ci sia un attore che quadri il discorso della rosa, non possiamo pretendere di avere talenti quando non ce ne sono, possiamo pretendere però di avere un attore capace di mettere insieme ciò che abbiamo a disposizione e fare un po' quello che ha fatto Conte con la nazionale. Giocatore, c'è la parola che era un fenomeno, ho visto la parola fenomeno con Conte, ho visto Giaccherini, ho visto giocatori che praticamente non valgono così tanto valere più di quello che in realtà la carta dice, quindi è quello che manca alla nazionale ed è mancato con Ventura, è Ventura, è un attore. Noi giocatori, quelli purtroppo partono da un discorso di fondo del fatto che non c'è mai stato un investimento serio da parte di sistema calcio, di squadre, sono discorsi già fatti che abbia veramente alzato il livello dei giovani italiani e pertanto adesso ne paghiamo le conseguenze per anni e anni, decenni di sistema malato in tal senso e spero che il nuovo Presidente Fili C, con il nuovo progetto, metta le basi per un futuro più florido perché se il discorso continua in questo modo qua, le figure che abbiamo fatto finora potrebbero essere ben peggiori di quelle fatte fino ad ora, perché adesso perlomeno i buffoni calcini celebravamo ancora, ma chissà in futuro se celebravamo ancora di quel livello là. Come sempre Forza di Uro, in questo caso anche Forza Italia, perché nazionalmente io la tifo e quindi non ho problemi a dirlo, ci vediamo prossimamente, che sarà? Buona domenica, ciao!